Musica Sono su un set girando un film Io sono una comparsa Nella scena io gioco con dei modellini di macchinette Come i bambini E l'attore protagonista dice al regista che sono molto bravo E gli chiede di ampliarmi la parte con qualche battuta in più Sono molto contento Poi vedo un mio amico Che fa anche lui una parte del film Quella del tipografo E' un po' ubriaco E io mi preoccupo Che faccia qualche figuraccia su un film Musica E invece lui si siede alla sua macchina per stampare La mette in funzione Da prima perdendo un qualche colpo Ma poi si riprende E va tutto bene Da prima Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sto andando in un posto, tipo in Tanzania, da mia figlia. Forse per girare un film. E a me e ai miei compagni di viaggio ci porta la corrente del fiume in cui stiamo camminando. E' come un tapirulò nella foresta. Io e la mia amica siamo vicini. Ci teniamo per mano, anzi teniamo entrambi una valigia che quindi sta fra di noi. Poi c'è una voce fuoricampo che dice che lì dove siamo arrivati abbiamo costruito un cancello. Poi vedo dei pali, sono tre o quattro, sono conficcati in terra e vedo me appollaiato su uno di questi che scrivo, prendo appunti. Di colpo questo tronco su cui sono seduto viene risucchiato dal terreno e la voce fuoricampo racconta che ogni tanto questo succede. Io lo so, perciò non mi spavento, anche se finisco risucchiato. Poi c'è una telecamera fissa, è tipo la webcam di questa foresta, che è puntata sul fiume, che a questo punto è diventato un mare. E ogni tanto si vede passare una donna che nuota. Se ne vedono pezzi in realtà, si vede un braccio, poi un piede, la faccia, le gambe. A un certo punto passa addirittura una nota diva del cinema degli anni 50. Ma non è più lei, è quella di oggi col corpo di adesso, quindi è anziana. Ma non è più lei, è quella di oggi. Non ho mai sognato di volare. Ho sognato una città del futuro, dove gli uomini erano perfettamente in grado di controllare l'aggressione dell'informazione del codice genetico e delle radiazioni. Ma soprattutto la loro longevità era tornata vicina a quella dei patriarchi della Bibbia. Finalmente gli dèi avevano concesso loro il ritorno all'Eden primordiale. Non c'erano astronavi o segni visibili di progresso materiale. Tutto si svolgeva in un'atmosfera di grande e vero benessere. Fluttuante nella quasi totale assenza di razzioginio. Io mi trovavo nel massimo comfort a chiacchierare di politica con i sumeri e gli antichi greci. Mi dispiaceva non avere uno shuttle personale con cui intraprendere viaggi interplanetari. Ma la sensazione di far parte dell'anima del mondo era impagabile. col potere della non azione riuscivo a creare uno shock planetario e non mi stancavo mai. col potere della non azione riuscivo a creare di politica con i sumeri e non mi stancavo mai. col potere della non azione riuscivo a creare di politica con i sumeri e non mi stancavo mai. col potere della non azione riuscivo a creare di politica con i sumeri e non mi stancavo mai. col potere della non azione riuscivo a creare di politica con i sumeri e non mi stancavo mai. col potere della non azione riuscivo a creare di politica con i sumeri e non mi stancavo mai. col potere della non azione riuscivo a creare di politica con i sumeri e non mi stancavo mai. ... 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 E' un angelo che mi fa sognare Questo non mi basta, non mi devi giocare E' un angelo che mi fa sognare Questo non mi basta, non mi devi giocare E' un angelo che mi fa sognare 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 Sì, 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 sì. 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 Sì, sì.